Ciao a tutti, sono Matteo, di Mani in Mano di Cambiago. Come ogni settimana vi presentiamo 10 articoli che andranno in pubblicazione la prossima settimana sul nostro sito. A dire il vero sono 8 novità, un prodotto presente nelle occasioni del nostro sito e un piccolo giochino che vorremmo proporvi, ovvero sempre un prodotto che andrà in pubblicazione, ma vi chiediamo di indovinare il prezzo e al fortunato che indovinare il prezzo ci sarà un buono di 100 euro. Poi vi spieghiamo bene come funziona durante il video. Vi ricordo che tutti i prodotti che vedete sono già acquistabili, quindi potete contattarmi al 351 690 4263 o assistenze ai clienti www.ghioccioladimanimano.it Prima che mi dimentico, domani partirà l'evento Shiny a Milano, Viale Spinasse 99, dalle 10 alle 19 con orario continuato. Oggetti di pregio, di argento e vetro soffiato, è un'esposizione molto carina che vi invito ad andare a vedere. Partiamo subito con un cassettone, eccolo qua, neoclassico laccato di manifattura genovese del XVIII secolo. È sorretto da piedini tronco piramidali e sul fronte presenta due cassetti, eccoli qua, più una coppia di cassettini affiancati nella fascia. E sono questi due. È interamente laccato e dipinto ed è stato ripreso successivamente nel decoro floreale. Le sue misure sono 104 di altezza, 87 di larghezza, 35 di profondità. Il suo prezzo è di 2530 euro. Prima di passare al nostro secondo articolo di oggi, vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un like se vi piace questo video. Inoltre, vi ricordo gli orari del negozio di Cambiago che sono il martedì e il giovedì dalle 15 alle 19 e il sabato e la domenica 10-19 con orario continuato. Potete prendere appuntamento se vedete qualcosa sul sito oppure, altra alternativa, mi contattate e prendete appuntamento anche fuori dall'ora di negozio. Siete liberi magari una mattina, mi chiamate, mi dite quale prodotto avete visto che vi può interessare, ve lo posso riservare fino all'appuntamento e poi ci vediamo qui a Cambiago per vederlo insieme, conoscere i costi di restauro, eccetera, eccetera. Passiamo dunque a questa coppia di console neo-barocchetto dell'Italia del XIX secolo. Sono sorrette da montanti mossi e connessi da traversa. Sono intagliate con motivi fitomorfi di gusto rococò, laccate e dorate. Il pianetto è sagomato e marmorizzato. Le misure sono 81 di altezza, 112 di larghezza e 50 di profondità per un prezzo per la coppia di 1200 euro. Ci siamo spostati nel nostro soppalco dei tavoli e delle scrivanie di Modernariato per presentarvi due prodotti che abbiamo completamente restaurato. Il primo è questo tavolo, anni 50-60, di produzione italiana, con base in legno di faggio tinto, piano in legno, ricoperto in formica. È un restauro che abbiamo fatto qui nei nostri laboratori, anche l'applicazione della formica. Questo per dirvi che se non vi dovesse piacere questa colorazione di formica possiamo sostituirla e scegliere insieme un colore che vi può piacere di più e farlo direttamente qua. Quindi potete avere questa opzione nel caso volesse abbinare questo piano a delle sedie, dei mobili che avete nel vostro soggiorno. Le misure sono 78 di altezza, 78 di profondità e 160 di larghezza e il suo prezzo è di 1300 euro. Ci spostiamo Giada per farvi vedere questa meraviglia. Eccola. Che è uno scrittoio home desk di George Nelson per Herman Miller degli anni 60-70, arriva dagli Stati Uniti ed è uno scrittorio con vani a giorno con scomparti sul piano e piccoli cassetti sottopiano. Infatti uno era già aperto, vi apro anche l'altro. Farvi vedere che carini. È molto bello poi l'abbinamento del bianco con il legno. Legno, sì, è un legno di rovere e un legno ricoperto in formica. La struttura è in alluminio, adesso Giada ce la farà vedere perché le gambe sono davvero meravigliose. Molto eleganti. È stato, come vi dicevo, anche per il tavolo, è stato completamente restaurato. Quindi pronto da mettere in casa. Le sue misure sono 88 di altezza, 99 di larghezza e 73 di profondità. Il suo prezzo per questo pezzo di design è 2.900 euro. Mi sono trovato questa bella coppia di spingi in resina e non ho idea di dove metterle, Giada non so se hai qualche idea. Su questa libreria? Ma sì, dai, guarda come ci stanno bene. Mi sembra perfetta. Abbiamo, come avete intuito, pensato di farvi vedere questa bellissima libreria che è una libreria a tre campate, anni 50-60, di produzione italiana. È utilizzabile da centro, ovvero sul retro, adesso andiamo a vederlo insieme, le parti sono già rifinite, quindi è possibile utilizzarla anche al centro della vostra stanza. Vi do qualche informazione in più. È realizzata con legno esotico impiallacciato e presenta quattro montanti che tra l'altro le permettono di essere utilizzata anche senza essere fissata a muro grazie appunto a quella tipologia di piedini. I ripiani sono a posizione regolabile, quindi potete scegliere di utilizzarle eventualmente cambiando la disposizione sia dei vani che dei ripiani e sono tutti i vani contenitori o con antabattente o a ribalta o cassettini. Proviamo a aprirne qualcuno per darvi un'idea e farvi vedere anche gli interni. Questi sono i cassetti. Le misure sono altezza regolabile, quindi da 2,80 m fino a 3,25 m, c'è la possibilità di regolarla. La larghezza è 240 cm e la profondità è 41. È una libreria che è già stata restaurata, quindi è in buonissime condizioni. Il suo prezzo è di 3.800 euro. Questo è quello che vedete quando arrivate a Cambiago, quindi arrivate dal nostro cancellino, entrate, vi trovate un'area esterna di mercatino dell'usato e qui si entra nel negozio. C'è sempre una varietà di oggetti e redi incredibile. Se andate di qua, subito dopo le casse, verso sinistra, vi trovate qualche dipinto, di solito le novità dei dipinti che sono appena arrivati. Oggi vogliamo far vedere questo dipinto ritratto di donna orientale. È un olio su tela di scuola nord-europea del XIX secolo. È il ritratto, per esempio, una giovane e bella donna appoggiata ai cuscini di un divano. La tunica è ampiamente scollata, sulla quale è appoggiato un ricco mantello rosso, bordato di ricami dorati. Ha un'area un pochino giudicante, mi diceva Giade, in effetti è così. È in cornice di inizio 900. Le sue misure sono 60 cm di altezza, 52 di larghezza. Il suo prezzo è di 400 euro. Proseguendo da questa zona di ingresso, trovate poi l'altra parte di negozio. I nostri mercatini, arredati sempre con antiquariato, modernariato e arte. Da questa parte la nostra libreria, sempre super fornita. E in questo corridoio, che ci porta poi all'altra parte di negozio e magazzini, esponiamo solitamente piatti e alcuni orologi. Ci soffermiamo oggi, su questo orologio, a pendolo da parete, in bronzo dorato, della seconda metà dell'Ottocento, che arriva dalla Francia. È finemente cesellato e sormontato da vaso, comprese a testa d'ariete, e festoni ricadenti ai lati. Il quadrante è in smalto, con numeri romani e arabi. Le lancette sono in bronzo e finemente traforate. È davvero molto ricercato nella sua qualità. Le misure sono 70 di altezza, 31 di larghezza e 11 di profondità, per un prezzo di 1.500 euro. Giada, come mi stanno? Cosa dici? Peccato per il numero, perché erano perfette. Ma magari, Anna, che numero hai? Io ho il 38. Proviamole. 44. No, forse perché erano piccole. Guardate, Anna. Sono leggermente grandi, ma meglio che a te. Te sanno comunque meglio di me. Sono delle décolleté ferragamo nere vintage, misura 39, come abbiamo detto, in pelle ricoperte in raso nero. Tacco di 3 centimetri. Vediamo il tacco, Anna. Eccolo. Oggi modella d'eccezione, comodissime. Eh sì. Le sono imprezziate da un decoro in strass e perle. Italia degli anni 80-90. Le proponiamo a un prezzo interessantissimo, sempre che Anna non se le porti già a casa. A me piacciono un sacco, ma avevo bisogno... È solo per il numero. E' vero, è vero. Cioè, balla quel numero. Perché sono le d'eccezione, comodissime. A soli 140 euro. Venerdì, giornata di chiusura e quindi spostamenti con il nostro Alessio e Gabriele, che stanno disallestendo il negozio per mettere qualche novità. Eccoli che se ne vanno. Noi andiamo invece verso il prodotto, che vi avevo detto, essere in promo nelle occasioni sul nostro sito. È questo, Giada. Lo sposto un po'. È un busto di uomo bello liscio, come me. In passa di cemento, di autore anonimo. Le sue misure sono 58 di altezza, 32 di larghezza e 27 di profondità. In questo momento è in promo sul sito da 800 euro a 400 euro. Eccoci, è arrivata la novità che vi dicevo che introduciamo questa settimana. Ovvero, un pezzo che andrà sempre in pubblicazione la prossima settimana, quindi non abbiamo ancora nessuna info sul prezzo. Di cui vi chiediamo, nei commenti o scrivendomi anche su WhatsApp, di indovinare il prezzo a cui le metteremo. È un gruppo di quattro sedie. Prima ve le presento, poi vi dico come può funzionare questo giochino. Anni 60, in legno di faggio tinto, con imbottitura in espanso e rivestimento in tessuto. Mentre Giada va avanti a farvele vedere, così potete farvi un'idea sul prezzo. Vi dico che funzionerà in questo modo. Vi chiediamo appunto di indovinare il prezzo. Nei commenti o su WhatsApp, come preferite. A chi indovinerà, o a chi si avvicinerà di più al prezzo, se proprio non riuscite ad indovinarlo, daremo un buono di 100 euro, spendibile sul nostro sito, nei nostri negozi, su una spesa minima di 500 euro. Quindi vi aspettiamo numerosi con le vostre idee di prezzo. Vi dico che è un prezzo molto interessante perché devo un pochino aiutarvi. Cosa dire? Ci vediamo la prossima settimana. Questo gioco durerà fino all'uscita del nuovo video, fino a venerdì prossimo compreso. Vi ricordo i miei contatti 351 690 4263 o assistenza ai clienti, chioccioladimanoinmano.it Ci vediamo la prossima e buona fortuna per il prezzo del indovinare.